Ciao ragazzi, oggi non ho fatto nessun video né di Minecraft né di Clash perchè non avevo tempo però adesso ne faccio uno che sono fuori là è il benzinaio ma vabbè là così mi sto allenando ogni sera e quindi sto facendo un video così tanto per metterne uno perchè non ne ho fatto nessuno oggi quindi qua in strada dove ce l'ho firmata ci sono delle puttane ma è sempre pieno di sera vabbè mi sto guardando male e vabbè quindi domani ne faccio uno di Clash no anzi ne faccio uno di Minecraft e vedrò cosa fare e poi uso le mod o altre cose vabbè il video lo madonna avete sentito porca puttana vabbè il video finisce qua e ci vediamo alla prossima ciao e se c'è bisogno commentate e spolliciate ci vediamo al prossimo ciao 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 Grazie.